mister in passato aveva detto spero di vincere qualche partita 1 a 0 o di quelle sporche brutte e cattive è stato questo il caso né nel senso che comunque diciamo più che altro abbiamo dovuto gestire anche per l'atteggiamento del nostro avversario che comunque si è difeso bene negli ultimi 30 metri con tutti gli effettivi quindi diventava difficile diciamo trovare degli spazi no però anche noi non avevamo grande interesse di andare a rischiare di prendere delle ripartenze o dei contropiedi e quindi è stata un po una gestione indotta della gara però si diciamo io quando non si prende gol sono sempre molto contento e soprattutto oggi è una partita importante anche complici risultati che arrivano dagli altri campi quindi era più importante oggi portare il risultato a casa. Il gol di Partipilo in questo senso è stato importante proprio nel proseguo della gara? Sì assolutamente addirittura fatto nel primo tempo dove giocavamo a sfavore di vento e quindi siamo stati anche bravi perché di solito in queste situazioni qua si rischia di abbassarsi un po troppo che oggi il vento era veramente forte e quindi i ragazzi sono stati bravi a leggere le situazioni con saggezza come in questi momenti del campionato serve fare. Ne ha già fatto cenno, la Ternana non ha preso gol, è arrivata non solo a quota 72 reti realizzate ma anche a 72 punti in classifica. Speriamo che questi vadano di pari passo fino alla fine questi due numeri, sarebbe il coronamento e la prova tangibile che avremo molte possibilità di raggiungere l'obiettivo. Adesso però non c'è tempo di cullarsi sugli allori, c'è da recuperare la gara di mercoledì con il Potenza e poi si va a Bisceglie. Sì, sperando che sia possibile perché comunque le notizie sulle condizioni meteorologiche di Potenza non sono rassicuranti, quindi speriamo di non dover fare un altro viaggio inutile come abbiamo già fatto una volta e di giocare la partita o di sapere prima se non si dovesse giocare perché almeno ci risparmiamo l'ennesimo viaggio a vuoto.